E qua siamo all'inizio della passeggiata per andare al Forte San Felice e come vedete qua c'è una bellissima arte di Writers sono degli scrittori, uno più bravo dell'altro questa cosa fra duemila anni vedranno queste scritte e diranno ma che bravi, vedi, bravissimi ma no dai non ti piacciono queste scritte? fa schifo, fa schifo come fa schifo? dai una mannina alla tua sorellina scusa tu dici che fa schifo questa roba qua dai una mano a tua sorella allora tu hai sei anni, giusto? e secondo te fa schifo questa roba qua? si che strano